e dopo la classifica dei film della saga dal minore diciamo al migliore e dopo la classifica delle scene d'apertura di quelle di chiusura registriamo oggi la classifica dei ghostface dal peggiore al migliore avevo già registrato il solito video nel 2022 senza tenere in considerazione scrim 6 quindi è doveroso adesso aggiornarlo ma recuperatevi il precedente così poi potrete vedere se ho cambiato idea oppure no direi che possiamo iniziare e io vi voglio subito dire che tredicesimo ho messo jason in tanti non lo tengono in considerazione ma effettivamente per quanto sia un emulatore il personaggio interpretato da tony revolori in scrim 6 è comunque un ghostface morirà subito è vero ma comunque uccide la protagonista della scena d'apertura cioè samara weaving la splendida samara weaving l'insegnante di storia del cinema horror quindi io gli voglio bene a jason e jason viene inserito nella mia classifica ovviamente ultimo perché poi non è che abbia chissà quale background o quale sviluppo futuro però pur sempre un ghostface è e quindi viene inserito al tredicesimo posto iniziamo invece adesso con i ghostface quelli classici come potremmo definirli e all'ultimo posto io inserisco charlie charlie ci mancherebbe un personaggio che mica boccio però già nella scorsa classifica lo misi all'ultimo posto perché mi lascia poco è molto introverso taciturno non mi riesce a regalare anche quel coinvolgimento così come riescono a fare altri ghostface per di più non riesce nemmeno ad uccidere kirby quindi meno male perché poi torna un grandissimo personaggio però è forse il più scialbo il più moscio della situazione si poteva sviluppare maggiormente quel personaggio e quindi io lo metto dodicesimo all'undicesimo posto amber quindi scream 5 sicuramente ha più carisma di charlie di scream 4 ma è uno dei ghostface che preferisco di meno se penso che fosse in combutta con ricci fra amber e ricci c'è una differenza abissale direbbe tananai e in effetti quindi io la metto all'undicesima posizione per quanto comunque sia un personaggio simpatico il finale in cui prende fuoco e cita il suo stesso personaggio in c'era una volta d'hollywood capolavoro di quentin tarantino non può che farmi gioire però come ghostface abbiamo visto decisamente di meglio decimo posto ecco che subentra scream 6 con queen queen a me piace ovviamente non è fra i migliori ghostface ma il suo lo fa è comunque inizialmente un personaggio simpatico perché è la coinquilina che ama fare sesso non ci aspetteremmo mai che potesse essere un assassino non ce lo saremmo mai aspettati ed invece arriva con tutta la sua brutalità sul finale uccide il compagno di gail weathers con una forza incredibile sta quasi per uccidere sia gail che mindy e devo dire che anche il finale con nel finale contro sam e tara riesce ad avere la sua dignitosissima caratterizzazione quindi queen io la metterei in decima posizione nono posto suo fratello itan itan mi piace più di queen è così tenero è proprio così buono che non ci aspetteremmo che fosse in grado di uccidere eppure appare solo una volta nei panni di ghostface accoltellando chad però invece dietro quella maschera di ragazzo per bene del verginello è proprio spietato vuol vendicare la morte di suo fratello ricci e devo dire che sia un personaggio che non sarà un billy loomis ma che comunque mi sta simpatico anche quando si relaziona con chad quando deve far la parte del ragazzo simpatico caduto dalle nuvole quindi nono posto itan ottavo posto tarararan debby salt la nostra nancy loomis la madre di billy killer in scream 2 da del filo da torcere a sydney prescott che non vede mai durante il film altrimenti l'avrebbe riconosciuta ma ecco che una volta che si presenta di fronte a lei sydney subito la riconosce c'è questa colluttazione era in combutta con mickey insomma un personaggio che sorprende di più per la parentela con billy che sicuramente per la sua caratterizzazione o background cioè magari fosse uscito oggi scream 2 visto come siamo diventati molto attenti ai dettagli ai particolari avremmo potuto capire che appartenesse forse alla schiera dei killer perché altrimenti ci saremmo potuti chiedere ma lei alla fine ai fini della trama cosa serve solo a infastidire gail weathers però erano gli anni 90 e forse erano meglio coi tempi rispetto all'horror di oggi però è un personaggio a cui voglio bene che mi piace folle sadico quindi nancy loomis debby salt la madre di billy all'ottava posizione siamo arrivati al settimo posto e io inserisco il nostro dermot murrone cioè il detective bailey padre di ritchie padre di queen padre di etan in scream 6 fantastico è un personaggio che proprio ho amato purtroppo sono arrivato in sala e già mi avevano spoilerato come ricorderete ve lo raccontai chi fossero gli assassini quindi purtroppo lo sapevo però o perlomeno sapevo che fosse il detective bailey poi gli altri no è un personaggio che riesce ad essere credibilissimo nei panni di detective è proprio capace di farti affezionare poi alla fine di darti una coltellata fra capecollo svegliandoti da quella tua convinzione che forse potesse essere innocente quindi settimo posto dermot murrone detective bailey sesto posto roman bridger il regista di stab 3 comunque è il fratellastro di sydney comunque è un personaggio che sin dall'inizio ti fa credere di essere caduto dalle nuvole che sia costretto a dirigere un horror per poi poter fare quello che più vorrebbe quindi sembra distante dallo è un po l'itan della situazione eppure eppure è l'assassino nonché fratellastro di sydney è il manipolatore colui che ha dato il via a tutto rivolgendosi poi a billy mi sei incolpando cotton weary quindi roman bridger è comunque un grandissimo personaggio della saga ma 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 non è sul podio non è sul podio e non lo è nemmeno il personaggio che ho messo in quinta posizione ma che amo alla follia e qua ho cambiato idea rispetto alla classifica dello scorso anno perché li ho invertiti al quinto posto io metto charlie charlie irsch è fantastico ho rivisto più volte scream 5 dal video dello scorso anno ed effettivamente ok non avrà la stessa importanza ai fini della trama di roman bridger che ha dato il via a tutto però se io penso all'interpretazione al suo carisma se io penso all'idea del fan deluso dall'horror odierno e che quindi ormai amareggiato per come la saga di stab sia stata rovinata inizia ad uccidere per dare nuovi spunti ai futuri registi e sceneggiatori su cui basarsi piuttosto che inventare di sana pianta così si ritornerebbe alle idee originali dei primi capitoli io applaudo cioè è un personaggio proprio meraviglioso grandissima interpretazione quindi charlie sta scalando sempre più la mia classifica quarto posto gil roberts la cugina di sydney prescott è un personaggio incredibile a parte quel colpo di scena mi lasciò stupefatto in sala e ogni volta mi sembra impossibile che possa essere lei l'assassina eppure è un personaggio che ha una metamorfosi che ha un cambiamento che realmente riesce a darci l'idea della ragazza insicura poverina della nuova sydney che effettivamente lei vuole diventare lei vuole diventare la sopravvissuta lei ormai ha questa idea folle di trovare la celebrità sopravvivendo perché non vuole che tutti i meriti li abbia li abbia sydney prescott vuole averli lei e quindi vabbè la scena ve l'ho già detto anche nel video della scorsa settimana delle delle scene di chiusura del franchise in cui inizia a farsi del male a picchiarsi a strapparsi i capelli a graffiarsi gil roberts personaggio fantastico ma che non è sul podio il podio è composto rullo di tamburi terzo posto mickey altieri mickey è un personaggio che io amo in scream 2 ci regala un'interpretazione ottima seppur poi in scream 6 non lo tengano nemmeno in considerazione ma come lasciate le maschere di tutti sui luoghi del delitto quella di stu quella di billy quella di nancy lumis ve la mettete e il povero mickey poverino povero mickey ragazzi non tenuto in considerazione da nessuno e quindi io lo metto terzo nella mia classifica o porca miseria secondo medaglia d'argento e qua se la giocano e però io continuo a mettere stu stu facendovi già capire che al primo posto invece ci sia billy insomma billy e stu sono una forza della natura sono incredibili sono perfetti insieme con questa anche sorta di intesa omosessuale che giustamente non è di da scalica ma che il film ci ci comunica mi piacerebbe tanto rivederli insieme ma è impossibile a meno che attraverso i fantasmi no avete visto avete visto che nel nel video che avevamo fatto io e i miei colleghi sulle ipotetiche idee di scream 7 un kratos 25 selvatico aveva avuto un'idea niente male per riunirli insieme andate a vedere quel video nel caso ve lo foste perso però ecco io direi che al secondo posto stia bene stu e al primo posto stia bene il grande billy lumis ragazzi belli grazie anche per avermi seguito in questo nuovo video a tema scream voglio sapere nella sezione commenti la vostra classifica inseriteci tutti anche jason e rispetto per jason ok io vi abbraccio vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana un caro saluto e noi ci vediamo la prossima volta per un nuovo video a tema scream e non solo ciao